Sono oltre 200 gli espositori italiani ed esteri che saranno presenti sui 16 mila metri quadri del nuovo padiglione della Fiera d'Elevante a Bari dal 7 al 9 marzo per la Enoli Expo Adriatica, la Fiera Internazionale di Macchinari, Tecnologie e Servizi per la Produzione di Olio di Oliva e Vino. Materiali, attrezzature, prodotti e servizi per le attività agronomiche, dei processi di trasformazione e commercializzazione delle filiere coinvolte saranno i protagonisti della tre giorni che permetterà anche di approfondire le tematiche principali legate al mondo del vino e dell'olio attraverso un fitto calendario di eventi, convegni, workshop e incontri che vedranno la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle associazioni di categoria. La rassegna 2024 presenta anche alcune novità. Il fatto di essere internazionale ovviamente permette a tutte le aziende espositrici di beneficiare di contributi nazionali o camerali per l'abbattimento parziale dei costi. Inoltre a Enoli Expo, oltre alle tecnologie per viticoltura, livicoltura, industriale aria e denologia, fine linea e packaging, sarà presente anche un nuovo settore che è il settore dedicato ai produttori di birra, micro birrifici o brewer.